La rassegna stampa è offerta da Lunedì 5 gennaio, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa Andiamo a leggere insieme le principali notizie dei quotidiani locali e nazionali di oggi Iniziamo con il quotidiano nazionale romano il messaggero Fisco Renzi rinvia, ho deciso io, stop del premier alla riforma con lo scudo del 3% che avrebbe potuto favorire Berlusconi Nessuna legge ad personam, il decreto riscritto nel CDM da Mene, riparliamo dopo il Quirinale Retroscena, l'ira del Cavaliere, sabotano il patto del Nazareno, i mandanti tra i centristi Le reazioni, voci dal governo, così andò con quel testo Taglio centrale tra Palermo e Agrigento, inaugurato a Natale, costato 13 milioni Dopo una settimana il ponte è già crollato Sulla destra, assenteismo a Roma, i sindacati dei vigili nel mirino del Garante Oggi interrogatorio dei 44 agenti ingiustificati, ATAC nei controlli IMS, il 30% di casi sospetti Taglio basso, i nuovi cardinali della Chiesa globale E poi nessun ferito, bomba nella sede PD di Coratti e indagato per mafia capitale Proseguiamo con la pagina regionale, dunque la Gazzetta del Mezzogiorno Occhio alle notizie locali, la tragedia, l'Atlantic, vecchio e poi rimodernato Brindisi non vuole più il relitto Stive ancora roventi, dubbi sull'ora dell'incendio In basso a destra, Confesser Centi rileva segnali positivi Lecce con i saldi riprende la voglia di fare shopping La Gazzetta di Lecce, Contenzioso Leadril, Consiglio Comunale Scalda i Muscoli Ai raggi X l'ipoteca da 90 milioni di euro Tangenziale Est, Rotundo e Tramacere convocheranno le commissioni Controllo e Bilancio Taglio centrale, Vescovo da 25 anni e festa agli auguri di Papa Francesco Per un Ministero di Impegno e Diligenza di Ocesi Due giornate di celebrazioni per la ricorrenza dell'ordinazione episcopale di Monsignor Domenico D'Ambrosio Taglio basso, Novoli, Anziano muore asfissiato dal monossido di carbonio Tragedia causata da una coperta elettrica Giustizia toghe al voto a fine mese, a gennaio niente sciopero Ed infine il nuovo quotidiano di Puglia Liste d'attesa si cambia, nuovo sistema informatico all'ASL Gli utenti saranno richiamati per confermare l'appuntamento Sicurezza in città, Movida stop agli abusi dai vigili leccesi Controlli con l'etilometro, via libera dal comando In arrivo la nuova attrezzatura per le pattuglie Taglio centrale, tragedia Novoli Infiamme la termocoperta, Anziano muore asfissiato nel sonno Taglio basso il calcio, da Lerda a Pagliari Così cambia il Lecce Pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia Il Papa chiama il Vescovo e benedice i Salentini Oggi e domani la festa per i 25 anni di Episcopato Di D'Ambrosio, la lettera di Bergoglio dal Vaticano Missiva da Roma per le celebrazioni E il Capo della Curia scrive ai fedeli della comunità Sanità alla svolta ASL, un centralino anti-ingorghi Liste d'attesa giù Telefonate automatiche al paziente Chi rinuncia alla visita libera I posti, obiettivo riduzioni fino al 20% Spostiamoci sulla destra Controlli in centro, Movida Basta abusi, vigili con l'etilometro Notte più sicura La Municipale acquista due apparecchi L'assessore Alcol Servono monitoraggi a tappeto Commercio, si saldi chi può Pienone bis in centro Senza posti auto Domenica boom Per la corsa agli sconti Parcheggi insufficienti E traffico in tilt Novoli, brucia la termocoperta Ottantenne muore nel sonno È stato trovato senza vita Su una poltrona dai vigili del fuoco Concludiamo infine la nostra rassegna stampa Con la pagina sportiva Lecce Pagliari si affida ai colpi della M2 Micoli e Moscardelli sono gli attaccanti scelti Dal nuovo tecnico per riprendere l'assalto della vetta Termina qui anche oggi la nostra rassegna stampa Grazie per essere stati in nostra compagnia Vi diamo appuntamento a breve Come sempre con TG News 24 Buona giornata La rassegna stampa è stata offerta da Grazie a tutti Grazie a tutti